questo sito di chat gpt ed è molto interessante perché io posso chiedere qualsiasi cosa non è l'unico è perché ci sono una valanga qui o poi ne ho messi alcuni copie ai che fa anche questo fa copioni ce ne sono veramente veramente diversi io ve ne mostro un po al volo però volevo fermarmi un attimo social gpt che è figlio di open ai che penso sia in questo momento l'azienda leader per quel che riguarda intelligenza artificiale ottimizzazione del linguaggio e oltre a chat gpt hanno anche dovrebbe essere qui esatto dalli che crea crea immagini e questa per esempio è la copertina del video che farò non l'ho creata io gli ho chiesto semplicemente intelligenza artificiale ovviamente ho fatto qualche iterazione perché se vado indietro c'è anche tutto lo storico attenzione che qui fa vedere lo storico delle immagini che ho creato vedete c'è tutto lo storico delle immagini che ho richiesto e poi man mano sono andata ad ottimizzarne una che è poi quella lì che avete visto poco tempo fa praticamente oggi quello che ho fatto è stato dire a chat gpt crea un video video youtube sul qualsiasi cosa di cosa volete di cosa volete che parliamo web 3 3 perché era un video youtube web 3 necessari no ecco per esempio questo ha sbagliato e ha sbagliato perché io volevo un video youtube non volevo una lista di cose non per creare un video youtube sul web trebbe necessario seguire i passaggi aprire un canale aprire youtube accedere quanti spiega come farlo io no io voglio che volevo che creasse un copy e probabilmente ha sbagliato io a dargli l'input l'input giusto sarebbe stato crea un copione di un video youtube sul web 3 sono gratuiti vi danno le prove gratuite avete un numero delimitato di richieste gratuite su dalli sono 50 cioè si possono creare 50 richieste io ne ho ancora 9 per esempio così vi faccio le prove con con 9 poi qui però su chat gpt penso che sia stesso numero di richieste cumulativo poi costa 15 dollari 115 richieste quindi molto poco in realtà se considerate che mediamente una copertina fatta abbastanza bene per un video youtube di mercato costa 10 10 euro vuol dire che io ho 80 richieste per fare una copertina e in questo caso in realtà costa costa meno una coperta dipende la qualità della copertina però mediamente una copertina fatta discretamente per un mio video youtube cosa 10 euro mediamente se mi servono 30 richieste per farne una vuol dire che ci sto ben dentro a questo ci metto anche meno paradossalmente e comunque rifacciamo crea un copione per un video youtube sul web 3 vediamo cosa mi dà come risultato ecco un possibile copione titolo mi dà addirittura il titolo grandissimo in questo momento addirittura me lo sta digitando meglio rispetto al video che ho creato su ea e open ai crea un copione per un video youtube sul web 3 ciao a tutti e benvenuti in questo video sull'importanza del web 3 corpo del video bello man mano che lo utilizzo imparo anche effettivamente a fare migliori richieste perché sarà quello poi il problema domani nel momento in cui si userà sempre di più l'intelligenza artificiale e il mondo in cui interagiamo con esso sta evolvendo rapidamente oggi parleremo del web 3 una nuova è scritto male questo però è una buona base di partenza per il momento conclusione in realtà quando gli ho chiesto prima scrivi un video su intelligenza artificiale open ai ciao e benvenuto in questo video sull'intelligenza artificiale open ai iniziamo con il definire cosa si intende per intelligenza artificiale qui ha dato la definizione qui ha parlato di che cos'è open ai una delle cose che ha creato open ai gpt 3 per sintesi vocali e modelli di linguaggio poi ha parlato di un'altra cosa che ha creato open ai alfa e di più tecniche di apprendimento automatico per migliorare le prestazioni al gioco degli scacchi e dopo di che ha parlato dei lati negativi del dell'intelligenza artificiale o dei rischi ed infine un ringraziamento e conclude poi io gli faccio dai un titolo a questo video introduzione all'intelligenza artificiale ea open ai il futuro della tecnologia perfetto io ho il copione lo registro al titolo lo registro dopodiché c'è lo registro lo carico su youtube e dopodiché vado su dalli e guardate qui dopo un po di interazioni 3 vediamo quante sono state 369 12 15 18 21 24 25 interazioni ho creato quella che utilizzerò come copertina potrebbe essere addirittura più bella questa non lo sviluppo vediamo sviluppiamo questa questa sembra figa sembra molto figa però a me piaceva di più questa questa interazione qui perché voi cosa fate vabbè partiamo da capo che così vedete poi vi faccio vedere quello che faccio che ho fatto io prima vogliamo creare un immagine sul video che appena creato poi questo copione non mi piace non ci piace e quindi gli dovremmo andare a chiedere di rigenerare la risposta diverse volte finché non troviamo quello che ci piace e non riusciamo ad avere qualcosa che ci interessa poi ovviamente c'è da considerare il fatto che queste informazioni potrebbero essere sbagliate perché la molle di dati che ha al suo interno non per forza non combacia per esempio nel video di mqb hd lui gli fa iscrivere un copione di un video inerente a un modello di iphone e lui però sbaglia tutte le schede tecniche per quale motivo perché va a prendere anche le schede tecniche degli iphone vecchi e non è ancora in grado di riconoscere la differenza poi man mano col tempo questa cosa migliorerà sempre di più però in questo momento questo è lo stato però è iper interessante perché io prima ho fatto copione non neanche chiesto una modifica copione me l'ha generato titolo è più che sufficiente partendo come cosa di partenza ave grazie sono felice di esserti d'aiuto e mazzi e dopodiché qui con 25 iterazioni sono arrivato alla copertina che adesso vi faccio vedere questa qui ovviamente va tagliata e sistemata perché in questo momento non è in 16 noni però un attimo tagliata e resa un pelo più definita però c'è guardate che roba ed è completamente originale presa da altri campioni che aveva ora proviamo a crearne una al volo così vi faccio vedere dato che abbiamo creato sul web 3 andiamo a vedere sempre inerenti a web 3 vediamo cosa ci dà come risultati e finché non trovate qualcosa che vi interessa e da lì andate ad ad iterazioni a vedere che dai questo potrebbe aver senso qui il problema è che è un'immagine quadrata quindi a me serve un facciamo gli altri quanti altri crediti o altri due crediti quindi facciamogli fare le variazioni così vediamo cosa crea da partendo da quell'immagine ok figo ovviamente più state qui più spendete crediti più le immagini diventano interessanti qual è quella che vi piace di più forse forse sono tutte belle prendiamola numero 3 e qui ovviamente a me serve un 16 noni perché la copertina di youtube è orizzontale e quindi quello che vado a fare edit e gli si può aggiungere un frame qui a fianco prendiamo così e usiamo la stessa definizione di prima per creare il frame a fianco mettiamo un po più vicino così a più contesto usiamo la stessa parola di prima e vediamo cosa viene fuori sta caricando ok questo è quello che è venuto fuori poi qui puoi accettarlo cancellarlo e o modificarlo a me non piace andrei avanti a ricrearla richiedergli cosa che ho fatto per esempio prima prima quando ho creato la mia immagine dovrebbe essere questa qui quando ha creato la mia immagine vi faccio vedere intanto partivo da queste che per carità erano belle immagini però man mano gliene ho fatte creare diverse questa l'ho salvata che sai mai che non era malvagia poi ho continuato a chiedergli finché è arrivata questa immagine qui che mi mi garbava ovviamente gli ho fatto fare delle variazioni per vedere se c'era qualcosa di interessante però ero contento del primo risultato anche se gli altri che mi aveva proposto non erano niente male e al che gli ho aggiunto un po di sono stato lì ad aggiungergli un po di pezzi questo è il primo che mi ha proposto volevo qualcosa di più semplice no non mi piaceva questo qui mi ha proposto lunga con lo smalto fissimo effettivamente lui non sa propone ea tentativi e tentativi tu continua a tentare 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 finché non c'è qualcosa che ti che ti garba dopo un po è passato a cose molto più più semplici come piacciono a me in realtà più contesto gli davo più tenevo quel quadrato sulla sinistra quindi sopra l'immagine più aveva contesto e più riusciva anche a generare qualcosa di coerente e infatti qui l'ultima l'ultima cosa che ha creato è semplicemente stata una continuazione della mano fighissimo e ha detto ok va bene creiamo l'altra parte no non mi piaceva diamogli più contesto e questa poi è stata l'immagine che ha creato che poi ha scaricato veramente figo veramente 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 figo quindi con questo avevo copertina copione del video titolo del video adesso manca solo che sostituisca me ma è facile cioè è facile con